Il 2 settembre con precisione mi è scaduto il permesso di sosta per il traffico limitato, la ZTL e da allora, senza saperlo chiaramente perché non mi ero accorto di questo, hanno cominciato a maturare delle multe che sono arrivate ieri, no anzi ieri l'altro, il 31 ottobre, ne arrivate le prime quattro per tutte quante per accesso nella zona traffico limitato, come se io non risiedessi qui, sono 35 anni che abito qui. Era stato sommerso di multe perché non si era accorto che il suo permesso per accedere all'area ZTL era scaduto. Un cittadino si era rivolto alla nostra trasmissione SOS Arezzo TV per sottoporre il caso dei permessi ZTL con scadenza triennale, dei quali può essere molto facile dimenticarsi la scadenza. Della raffica di multe che gli era arrivata aveva ottenuto l'annullamento, era stato però costretto a pagare le spese di notifica. Sul caso è intervenuto il comune di Arezzo, in particolare il sindaco Alessandro Ghinelli, che ha spiegato come sarà attivato a giorni il servizio di avviso di scadenza dei permessi ZTL via SMS ai cittadini residenti che ne faranno richiesta. L'amministrazione provvederà all'avviso tramite lo sportello unico del comune. Per i cittadini residenti nel centro storico ci sarà la possibilità dunque di ricevere queste comunicazioni sul proprio cellulare dell'imminente prossima scadenza, del permesso di circolazione e di sosta. Questo per evitare sanzioni sorpresa che scattano comunque in automatico allo scadere dell'autorizzazione. Non sarà possibile però annullare l'importo delle spese di spedizione della notifica. Solo che però io devo pagare le spese postali 15 euro ogni multa. Quindi sono 200 quasi. Meno che le ultime quattro che ancora non sono state mandate alla posta. Di otto devo pagare, che ho già pagato il cedolino, 121 euro che io volevo aspettare perché siccome mi sembrava ingiusto pagare queste cose volevo fare un ricorso, provare. Ma se non le pago vanno avanti, la procedura mi va avanti per cui mi ci va anche le altre quattro che per ora mi hanno tolto. Grazie.